In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli. Dramma in strada a Tesero in Vallifieme, si sente male, si accascia a terra, è morta una donna di 56 anni. Autismo, in Trentino mancano strutture specializzate per l'età adulta. L'appello, rischio di un vuoto occupato dai privati, servono risposte da azienda sanitaria e provincia. Trento sui concertini all'aperto è caos, Confesergenti chiede di cambiare la normativa. Peterlana, stiamo cercando di tenere vivi i centri storici delle città. Badanti, in Trentino la domanda è in crescita, ma è allarme per le famiglie. Costano anche più di 1000 euro, la spesa è diventata insostenibile. La Mechatronica Valley sulle pagine dei Forbes, dal polo di Rovereto al progetto Manifattura. Ecco il focus sul settore pilastro per l'economia trentina. Angela, sono tornato! Come ogni anno! Ti stai divertendo, eh? E io chiamo il Caf Acli. No, 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 il Caf Acli no, no, no! Quando si avvicina l'ora del 7.30, non preoccuparti, c'è il Caf Acli. Veloci e affidabili, come sempre. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it a stupido, non preoccuparti. Grazie.